Siamo nel rettilino, metto tutte le marce, entri in curva molto dolce, apri dolcemente perché il dietro può partire, arriva una staccata che devi scalare due marce, scorrere ancora la curva a sinistra per poi frenare mentre cambi direzione, la gomma è sempre fredda la prima curva destra, esci, tiri su più che puoi la moto per fare una piccola accelerazione, rifreni ma con tanto angolo per poi cambiare direzione mentre freni. C'è un rettilino che metti tre marce e una staccata con la piega, scali tre marce e entri in una curva lunga in discesa. Quando apri gas per il grip dietro è molto facile, quindi bisogna essere delicati ma farla scivolare perché ti aiuta a far girare la moto, cambio di direzione molto pesante, raccordare la curva a destra di prima marcia molto lenta che torna completamente indietro, tiri sulla moto prima, seconda, terza, freni, lasci i freni immediatamente per scorrere più che puoi, cambio di direzione nel curvone lungo a sinistra, si fa un po' di slide per far girare la moto, staccata in discesa e bisogna raccordare l'ultima curva in un modo perfetto perché hai tutto il rettilineo e devi scaricare più potenza possibile fino alla staccata in sesta marcia. è tutto in tua mente.